Ciao a tutti, sono qui per dirvi che oggi mi troverete sul secondo canale. Voglio parlarvi ancora una volta dei bambini, condividendo con voi dei mini racconti davvero inquietanti ed insoliti. Ci saranno dei racconti davvero molto molto particolari, quindi se non siete ancora iscritti al mio secondo canale e se volete iscrivervi troverete il link giù nella info oppure nel primo commento sotto questo video. Metterò il commento in primo piano, come faccio sempre, quindi non ci saranno problemi, lo riuscirete a trovare. Io ringrazio tutti coloro che decideranno di seguirmi anche lì, ringrazio tutti coloro che mi seguono già anche sul secondo canale. È davvero per me molto stimolante pubblicare video sul secondo canale, ricercare delle tematiche che possano essere per voi interessanti. Mi piace davvero conoscere tanti misteri del mondo e soprattutto quelle che sono state anche le esperienze che altri prima di noi hanno vissuto con il mondo del paranormale, del mistero e dell'ufologia. Quindi io vi aspetto con questo video oggi e con tanti altri video poi successivamente. Vi abbraccio, vi mando un bacione e ci vediamo più tardi.